Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il Fatto, torniamo a parlare di politica all'indomani di un Consiglio regionale che comunque ha ripreso la sua attività e sta procedendo a una serie di passaggi importanti, ma parliamo anche di politica che riguarda i partiti in questo caso, perché salutiamo e ringraziamo nei nostri studi il neocoordinatore regionale della Lega, Vincenzo Dincecco. Buonasera a tutti, buonasera a voi. Bentornato qui a Rete 8, però in una veste diversa, nuova, impegnativa e di grande responsabilità, come quella di guidare il partito dopo Luigi Deramo che è diventato sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole e quindi si è deciso anche di non conservare il doppio incarico proprio per dare un'idea di un partito che vada ad essere in qualche modo anche autonomo rispetto alla vita del governo, scelta che è riguardato anche il Molise e quindi direttamente da Matteo Salvini è arrivata questa investitura per i nuovi coordinatori regionali. Come ha preso questa notizia e che tipo di reazioni ha avuto in questi primi giorni in cui è entrato alla guida proprio del partito? Innanzitutto per me è oggettivamente motivo di grande soddisfazione personale, insomma essere scelto come figura intanto che prosegue il lavoro del nostro sottosegretario, l'onore Luigi Deramo, è già un fatto di grande soddisfazione, di onori, oneri, ovviamente è anche un po' il percorso che ha contraddistinto un po' il mio ingresso in Lega sei anni fa, insomma probabilmente anche il mio lavoro fatto in questi anni magari avrà destato un po' l'attenzione di chi ha pensato che potessi affrontare i prossimi anni le sfide abruzzesi della Lega. Ovviamente è un percorso costruito in assoluta serenità, nel senso che il passaggio di consegno è un passaggio assolutamente condiviso anche con il nostro sottosegretario che comunque in questi cinque anni ha fatto un grande lavoro perché ovviamente è trascorso un momento in cui noi siamo passati da percentuali molto grandi ad avere percentuali di rappresentanza più piccole e quindi ovviamente gestire in questa fase il partito non è stato facile, lui l'ha fatto credo con grande dovizia di particolare e anche con grande impegno, poi è stato così incaricato di svolgere un ruolo importante perché il sottosegretario al Masaf è sicuramente uno delle figure più importanti di governo che la Lega ha dopo i ministri e quindi deve sicuramente impegnarsi molto su tutto il territorio nazionale per portare avanti le battaglie della Lega nel campo dell'agricoltura e anche le attività di governo e quindi a livello nazionale si è deciso un po' di scindere tra la figura di partito e la figura di governo e così hanno definito e hanno scelto che potessi essere io la figura giusta. Per me è un grande onore, dobbiamo lavorare, sappiamo che dobbiamo lavorare molto, abbiamo probabilmente un anno, un anno e mezzo in Abruzzo dove non ci saranno grandi competizioni elettorali e questo ci aiuterà anche ad avere un po' più di tempo per costruire una rete di amministratori, per allargare il consenso alla base del partito, per far sì che il risultato delle regionali si possa corroborare con il lavoro e anche con un'organizzazione che dobbiamo ancora di più rendere capillare sul territorio, lo faremo serenamente, lo faremo con certezza del fatto che il nostro leader nazionale sta facendo molto per far tornare il partito ai numeri importanti e lo sta facendo con grande passione e quindi noi lo dobbiamo fare sui territori perché rappresentiamo l'UNSO. Sono giorni in effetti in cui Salvini è tornato un po' al centro del dibattito politico per una serie di eventi in cui ha preso delle posizioni abbastanza forti, intanto il risultato negli Stati Uniti con la vittoria di Trump, poi anche questa vicenda del conflitto con una parte della magistratura legata alle sentenze sui migranti, su questo siete mobilitati anche su scala regionale? Io credo che il percorso che ha fatto il nostro leader Matteo Salvini in questi anni è un percorso che ha cambiato la storia della Lega e quindi anche la storia del centrodestra in questo paese. Oggi noi abbiamo un partito radicato su tutto il territorio nazionale che ha saputo anche guardare a quello che accadeva nel mondo e fuori dai confini italiani, ha saputo creare anche a livello europeo un'area politica molto più forte rispetto alle ultime europee, ha saputo e ha scelto di sostenere Trump sin dal primo minuto senza nessun tipo di esitazione e oggi non si può non riconoscere il fatto che il nostro leader Matteo Salvini è un personaggio, è un leader di partito lungimirante che sa guardare oltre i confini di casa per interpretare anche quello che accade nel mondo. Oggi non si può fare politica a livello nazionale senza avere bene in testa quello che accade nel mondo a livello di passaggi politici, a livello di interpretazione delle volontà e delle esigenze dei popoli non solo europei ma anche di oltreoceano. Quindi credo che oggi gli italiani devono rendersi conto, ma lo fanno e lo faranno anche di quello che ha fatto quando è stato ministro per cui oggi rischia magari una condanna a sei anni di carcere che è una cosa assolutamente vergognosa, quindi io credo che oggi al centro della politica italiana ci siano i programmi, i progetti, le idee e la visione di Matteo Salvini, quindi questo è un dato inoppugnabile. Senta, il rapporto con Mannacci che anche in Abruzzo sta organizzando un suo movimento, chiarisce un po' che i nostri telespettatori sei dentro, fuori, la Lega, in competizione interna, qual è lo stato dell'arte del rapporto con questa figura che comunque è stato il trascinatore alle vostre europee. Ecco, Mannacci è stata un'altra grande intuizione di Matteo Salvini che ha convinto il generale a essere un candidato di punta della Lega in tutte e cinque le circoscrizioni alle ultime europee. Mannacci è un eurodeputato della Lega, è un personaggio ormai politico che ha saputo interpretare anche lui le richieste e le istanze del popolo, l'ha fatto prendendo una valanga di voti alle ultime europee e all'interno della Lega, lo ha già dichiarato sul palco di Pontida che è un eurodeputato e un militante della Lega, quindi ovviamente lui lavorerà per la crescita e per il bene del partito. Poi spesso grandi figure anche di rappresentanza, grandi figure politiche magari costruiscono mondi associativi e fondazioni che lavorano intorno all'idea oppure al contesto politico in cui gli stessi personaggi politici rivestono un ruolo, quindi il fatto che ci siano delle associazioni collegate a un eurodeputato non significa, non vuol dire nulla che non cozzano con il fatto che l'onorevole Vannacci è un eurodeputato della Lega e quindi noi siamo ben contenti di averlo sostenuto e saremmo ben contenti se dovesse tornare in Abruzzo di accoglierlo come un nostro esponente di spicco di partito ovviamente. Dincecco, dicevo, è ripresa ormai l'attività del Consiglio regionale, lei è anche capogruppo che poi è anche presidente, diciamo che ha commesso l'importante, poi sarà il periodo del bilancio in cui avrete riflettori ancora più accesi. Adesso è la fase delle nomine, qual è lo stato d'animo della maggioranza nel suo complesso di qualche malumore che inevitabilmente costella queste fasi in cui bisognerà prendere delle decisioni? Anche la Lega doveva indicare, mi pare, una presidenza per quanto riguarda un'azienda per il diritto allo studio universitario, quella dell'Aquila. Tra ieri e la prossima seduta si definirà tutto? C'è un clima buono nel centro-destra? Allora, anche qui, ovviamente una nuova maggioranza ha bisogno di qualche mese in più per definire aspetti che ci sono, fanno parte del dibattito politico anche all'interno delle coalizioni. Abbiamo lavorato in questi mesi, abbiamo cesellato e alla fine il discorso della quadra, come si dice in termini politici, è arrivato con serenità, magari c'è stato bisogno di qualche momento di approfondimento in più. Oggi la Lega ha determinato e ha definito quelle che sono le prime nomine che afferiscono al Consiglio regionale. Poi ci saranno un'altra serie di scelte da fare nel corso degli anni, anche a scadenza dei vari consigli di amministrazione, ma lo abbiamo fatto serenamente. È stato tutto chiuso, ovviamente, con dei ragionamenti che hanno fatto sì anche che si potessero scegliere le figure migliori, perché quando poi si parla di nomine, si parla sempre di persone che vanno a incidere sulla vita amministrativa di enti regionali. Quindi non si può solo ragionare in termini di etichetta, in termini di appartenenza politica, ma anche in termini di capacità, di curriculum professionali. Io credo che questo sia stato fatto in questi mesi. Oggi abbiamo definito il tutto, siamo sereni. La maggioranza, mi pare, che abbia dei rapporti tranquilli. Sicuramente nei prossimi mesi si chiuderanno anche le partite che sono ancora da definire. In questo mese e mezzo, da qui a dicembre, si arriverà alle definizioni del bilancio di previsione, come è stato sempre fatto. Insomma, il centrodestra, mi pare, che in Abruzzo abbia per la prima volta vinto le elezioni nel marzo del 2024, al secondo giro. Quindi è un dato reale. Il centrodestra è una maggioranza in questa regione, è maggioranza solida, è maggioranza in quasi tutti i territori e ovviamente anche in regione affronterà con serenità i prossimi anni di governo. Ovviamente ci sono dei dibattiti, come è sempre un fatto normale che all'interno della maggioranza ci siano delle sfumature tra i partiti della coalizione. Non mi pare che non c'è nulla di strano, ovviamente. E noi tutti aspettiamo un po' il termometro di questa situazione interna alla maggioranza e anche a tutto il Consiglio regionale. Ovviamente nelle prossime scadenze, una delle quali è proprio in questa settimana, in cui si apre finalmente il confronto sulla proposta di legge di riforma del sistema elettorale regionale sulla proposta del Presidente Marsilio. La Lega ha più volte anticipato la propria posizione. Qual è? La voglio ricordare ai nostri telespettatori, soprattutto come interverrete nelle commissioni e poi anche nel dibattito per dare, se lo ritenete opportuno, una nuova legge regionale all'Abruzzo per le elezioni. Ma noi già nella scorsa legislatura, quando il Presidente aveva avviato questo confronto, avevamo dato una disponibilità a ragionare in termini politici sull'apertura e quindi sulla modifica della norma in senso regionale, quindi di collegio unico e non di collegi provinciali come accade adesso. Quindi dal nostro punto di vista non c'è nessuna preclusione. Ovviamente ogni legge elettorale porta con sé grandi aspetti positivi in termini di operatività, ma anche qualche correttivo da porre in essere stata facendo. Noi non abbiamo preclusioni, siamo moderatamente convinti che possa essere uno stimolo. La nostra è una regione piccola, quindi il consigliere regionale deve uscire un po' fuori dalla logica territoriale della propria provincia e ragionare anche in un'ottica un po' più regionale, cosa che magari negli anni si è fatto di meno, perché quando il tuo bacino di consenso è solo quello provinciale, è chiaro che tu ti concentri su quello. Quindi dobbiamo ragionare nella prospettiva che un consiglio regionale deve essere capace di rappresentare ogni stanza. Ovviamente sappiamo anche che una campagna elettorale su un intero territorio regionale ha delle difficoltà non solo operative, ma anche tecniche, che dobbiamo capire in che modalità contemperare in alcune misure correttive della norma. Quindi sicuramente sarà un dibattito anche quello franco, ma come linea di principio non abbiamo nessuna preclusione all'idea che si possa modificare questo aspetto della legge elettorale. Poi, ripeto, vedremo strada facendo di porre qualche riflessione. Ultimo minuto per l'ultimo tema, che sicuramente non è l'ultimo, anzi forse il primo in questa regione, vale a dire la sanità. Voi avete presentato una proposta di legge, e tuttora penso in consiglio regionale, per rivedere un attimo i meccanismi di azione dei manager delle ASL. A che punto è il dibattito, anche dopo quei passaggi che ci sono stati sui disavanzi? La Lega che tipo di impostazione intende proporre anche agli alleati nella riforma, in qualche modo necessaria, che tutti avete auspicato, della gestione delle aziende sanitarie? Ma noi avevamo, ecco, anche cogliendo quello che in un dibattito politico di maggioranza era stata vista come un'ipotesi, l'idea di un gruppo di lavoro, chiamiamola così in termini anglosassi di task force, l'idea di poter costruire uno strumento che potesse supportare il Dipartimento Sanità nel lavoro da fare, che deve essere importante nei prossimi mesi. Quindi l'idea è tutto ciò che possiamo mettere in campo per aiutare e quindi costruire menti positive che lavorano intorno al concetto di riordinare qualcosa che in questi ultimi anni ovviamente ha avuto qualche sbavatura anche a seguito del Covid e quindi di un momento storico che ha probabilmente cambiato il rapporto e l'approccio con la sanità è utile. Quindi più persone, più menti che lavorano, secondo noi, possono essere utili per il controllo della spesa e per modificare i dettagli che magari in questi anni ci hanno purtroppo portato a una condizione in cui il disavanzo è cresciuto. Ovviamente questo è un tema che spesso a livello regionale passa come un tema esplicitamente abruzzese, il disavanzo della sanità è un tema che passa su tutta la nostra penisola e quindi coinvolge tutte le regioni. Noi dobbiamo migliorare questo aspetto, sappiamo che c'è da fare molto da questo punto di vista, adesso abbiamo un nuovo direttore del Dipartimento Sanità, sono convinto che il lavoro che in questi mesi abbiamo fatto in termini anche di coinvolgimento del Consiglio in questo percorso, quindi con il lavoro della prima commissione e della quinta commissione insieme, con le impostazioni che abbiamo anche dato nei documenti che abbiamo approvato solo qualche mese fa, come prima e come quinta, quindi questo invito ad essere il più possibile attinenti e in linea con quelli che sono gli indirizzi della parte politica, sono convinto che produrranno nei prossimi mesi dei risparmi che ci rimetteranno all'interno di un parametro più accettabile. Questo è quello che dobbiamo fare in queste settimane, in questi mesi, lo faremo anche qui tutti insieme, anche se magari su alcune questioni potremmo avere all'interno della maggioranza delle sfumature di colore su chi deve fare cosa, ma anche qui troveremo sicuramente il modo e il termine di condensarlo all'interno di progetti di legge condivisi. Grazie per essere stato nei nostri studi, Grazie a voi per l'ospitalità. E buon lavoro naturalmente. Grazie, grazie mille. Al neocoordinatore regionale della Lega, Vincenzo Di Cecco. Arrivederci, a domani. Grazie.